Uno degli assassini di mia figlia è libero. Non si sente di aver avuto giustizia in questo momento? No, no, mi aspettavo una sentenza completamente diversa. Almeno non dovevo uscire. Poi come fa? Non me lo spiego. Come fa a uscire? Sono parole di delusione e dolore quelle di Barbara, la mamma di Desiree Mariottini, subito dopo la sentenza di condanna dei quattro imputati, accusati di aver drogato, violentato e ucciso sua figlia. La rabbia è dovuta al fatto che il Tribunale ha appena scarcerato uno dei quattro aguzzini per prescrizione dei termini. Ma già stamattina la Procura ha firmato un nuovo arresto. Quell'uomo dunque resterà in carcere. La sentenza è arrivata a quasi tre anni di distanza dai fatti del processo per la morte della sedicenne originaria di Cisterna di Latina, trovata senza vita il 19 ottobre del 2018 dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. Dopo oltre nove ore di Camera di Consiglio, giudici della Terza Corte d'Assise di Roma hanno emesso il loro verdetto, mamma Dugara e Youssef Salia condannati al carcere a vita, 27 anni di reclusione invece per all'innocina e 24 anni e 6 mesi a Brian Minte, per il quale la Corte aveva disposto, come detto, la scarcerazione per l'accusa di droga. Providenziale dunque la nuova ordinanza cautelare, notificata stamane per l'accusa di omicidio della minorenne. Durante il processo, i PM Maria Monteleone e Stefano Pizza avevano sollecitato il carcere a vita con l'isolamento diurno per tutti, mentre avevano chiesto l'assoluzione per il gara solo dalle accuse di cessione di stupefacenti e induzione alla prostituzione, mandando nello sconforto la mamma di Desiree.